Tra il 1946 e il 1952 partirono sui treni della felicità più di 70.000 bambini. A noi, figlie della guerra, ci sorrideva un pensiero. E questi bambini e bambine sarebbero stati portatori della premessa di una nuova umanità e mediatori per una fraterna e più matura convivenza tra persone lontane. Noi raccontiamo storie, storie che anche se non appartengono alla vita personale di ognuno di noi, fanno sempre parte della nostra storia. Ma tu guarda che brutti scherzo che ti fa la memoria. Quando ti dimentichi che la cosa è brutta, eh? Ma la cosa più brutta è quando ti dimentichi che la cosa è bella. Ci siamo stancati per fine di spezzarci la piena di 400 lire. Che manco l'umano, ci possiamo coprire sangue adesso! Noi raccontati per tutti i treni della felicità, li faremo ad arrivare a Rancona, dove ci sono famiglie che ha perso l'eroporto. Poi? Vedi che non è come dicono a Roma, eh? Cosa? Che te sei madre? Cosa? Ma che te è una roba io? No, ma io non sei una sovrana del tifro! Eravamo ragazzini con l'aria con me E' mare! Eravamo ragazzini con me